buongiorno a tutti oggi siamo a irania per presentarvi questo due e mezzo locali siamo all'ultimo piano di questa palazzina di recentissima costruzione entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo grande open space veramente luminoso sulla parte destra la zona giorno mentre sulla parte sinistra il bagno e la camera procediamo nel vedere il bagno vedete un bagno completo di bide pc lavabo specchiera e una comoda doccia alla destra del bagno abbiamo la camera vedete uno spazio sempre molto grande e ben illuminato grazie a questa porta finestra ritorniamo ora verso l'ingresso e nell'area open space del soggiorno sulla parte destra una cucina veramente fornita di tutti i comfort abbiamo quindi frigorifero congelatore abbiamo in questo caso inserita la lavatrice piano cottura in vetro ceramica forno lavabo e lavastoviglie ecco voi una panoramica dell'area del soggiorno e grazie a questa porta finestra possiamo accedere al balcone un balcone di dimensioni veramente interessanti che ci garantisce una vista incredibile e se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto